Beppe Tassara, Clayland Ranch, Giulia e Greta, due già campionesse di alcune specialità del roping di questo favoloso mondo che è il rosa, il donna. Giulia, qual è la disciplina che ti piace di più? Gotting, è sempre la migliore secondo me. Ok, per lei Gotting è la migliore disciplina. Vedo che hai una fibbia qua, dove l'hai vinta? A Voghera, il Trophy Ice. E nella specialità del Gotting? Ok, Giulia è già una campionessa, quanti anni hai? 12. Greta, e tu qual è la tua preferita? Gotting. Gotting, tutte vogliono le garde e le capre. Quanti anni hai? 9. 9. Come ti sembra il roping in questa manifestazione? Bello, mi piace. E Giulia? A me piace un sacco. Ok. Giulia e Greta, Beppe Tassara, Clayland Ranch. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.